Dovete trovare il contenitore di biorischio. Ben fatto, contenitore di biorischio trovato. Dieci secondi. Cinque secondi all'inserimento. Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo. Why you do that? Non è ancora finita. Il drone è pronto. Il drone è lancata. Tirate su. Drone in partenza. Lasciate perdere il contenitore. Un solo difensore rimatto. Un solo difensore rimatto. Mancano quindici secondi. Attività nemica. Neutralizzate la minaccia. Mancano dieci secondi. Un solo difensore rimangono cinque secondi. Un solo Geezo è la nostra fora. Qui sono le nostre persone di disciplinare. Difensori eliminati. Missione di attacco riuscita. Grazie a tutti.